A Margherita Cicconi, esponente del Movimento 5 Stelle Giulianova, chiediamo in questa iniziativa che cosa si proponeva e secondo te come era? Secondo me era un po' bello, è stato un pomeriggio, alle 5 e mezza, le poste a pieno quindi la gente ardenta, così si diventava, interessata a tutti, credo, dalla povera più che bene si iniziaviva, quindi io sono iniziativa, credo, perché la gente si fa ricorda e quindi si ha anche in modo di spiegare questa situazione, soprattutto dalla parte dei cittadini, ma comincia alla parte dei cittadini. Quello che mi è sembrato di vedere è la presenza di molti giovani, quindi sentirei così, sono in realtà concretari con queste situazioni, vero? Sì, quello che ho notato per me è stata da tanti ragazzi, tantissimi, giovani, che insomma ha comprito e questo ha che, ulteriormente, insomma, riempirci, voglio dire, di gioia e ottimismo, perché vuol dire, insomma, i ragazzi giovani sono così interessati, ma davvero delicati, ma è stato un bel pomeriggio di partito civile. Sì, direi che è stato interessante, bello e soprattutto quello che si trova a te in pericolo. Grazie.